Presso il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma è in corso una sperimentazione clinica finanziata dal Ministero della Salute sul trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori è un complesso muscolo tendineo che provvede al movimento e alla stabilità della spalla. Le lesioni della cuffia dei rotatori causano dolore alla spalla, ne limitano il movimento e riducono la qualità di vita. Per le lesioni della cuffia dei rotatori sono disponibili due trattamenti, chirurgico e conservativo. Entrambi possono fornire buoni risultati clinici, ma qual è il migliore? Il trattamento conservativo consiste in un programma di fisioterapia per ottenere il recupero funzionale, prevede esercizi di stretching, mobilizzazione articolare passiva e attiva e potenziamento muscolare. Evita l'intervento chirurgico, ma non l'evoluzione della lesione, che da riparabile può diventare irreparabile. Il trattamento chirurgico prevede la riparazione della lesione della cuffia in artroscopia, reinserendo il tendine nella sua sede nativa. Tuttavia, esistono rischi di recidiva, ovvero di rirottura della cuffia dei rotatori. Dopo l'operazione è necessario un periodo di riposo con arto intutore e un percorso riabilitativo. L'obiettivo dello studio è confrontare l'efficacia del trattamento chirurgico e conservativo in termini di funzionalità, integrità dei tendini, atrofia e degenerazione grassa dei muscoli della cuffia dei rotatori. Questo è uno studio clinico randomizzato, vale a dire che i partecipanti verranno assegnati ad uno dei due gruppi di trattamento in maniera casuale. Coloro che decideranno di prendere parte allo studio verranno sottoposti a visite ortopediche risonanze magnetiche della spalla gratuite prima e dopo 6, 12 e 24 mesi dall'inizio dello studio. La risonanza magnetica non utilizza raggi X, pertanto non presenta rischi noti. La partecipazione è volontaria e ogni partecipante sarà sottoposto ad uno dei due trattamenti in conformità ai migliori standard attualmente condivisi dalla comunità scientifica. In questo modo contribuirà al progresso della scienza fornendo le informazioni necessarie per migliorare le cure delle lesioni della cuffia dei rotatori. Per partecipare allo studio basta inviare una mail all'indirizzo sun-unicampus.it oppure contattare il numero 06 22 541 88 25. Università Campus Biomedico di Roma. La scienza per l'uomo.